Ecco, stiamo andando al rooftop dell'hotel, al decimo piano Siamo al rooftop Ecco, qui abbiamo una bellissima vista su tutta Casablanca Vediamo proprio qui di fronte la moschea, completamente illuminata Vediamo i principali palazzi, come è Qui avanti abbiamo la piazza delle Nazioni Unite Questo è il ristorante all'ultimo piano, al decimo Questo è il boulevard de Paris che abbiamo qui sotto Con queste immagini Terminiamo il video Grazie Grazie Grazie